Grazie Presidente, mi scuso se poi dovrò lasciare, ma ho voluto ascoltare tutti. Nella mia agenda prevedevo tempi inferiori, ma sono contento invece di questo ampio dibattito che c'è stato e che continuerà ovviamente. Io posso innanzitutto esordire con un mio compiacimento di carattere non soltanto personale nei confronti del Presidente Cacolici, ma anche sul contenuto. Vede, chi vi parla ha avuto, conoscete tutti la mia storia, una lunga esperienza parlamentare di carattere nazionale. Non ho mai fatto parte di Commissione nazionale antimafia, però ho assistito alle loro relazioni. Sapete, la Commissione antimafia nazionale, come quella regionale, è una commissione chiusa, non si può partecipare se non si è componente. La Commissione nazionale mafia è istituita per legge nazionale ed è dotata dei poteri di indagine della magistratura e svolge un ruolo encomiabile, importantissimo. Però realizza la propria relazione alla fine della legislatura a fine del mandato e studia il fenomeno della criminologia, della criminalità organizzata, fa delle emissioni, ascolta, fa un'analisi socio-giudiziaria politica di quello che è il fenomeno mafioso, per poi alla fine informare il Parlamento della propria attività. è un lavoro parallelo a quello della magistratura, ovviamente, dove non può interferire. Un lavoro utile, sì. Però, e lo dico non per raccogliere i vostri consensi in quest'Aula, io ho preferito oggi ascoltare, mi auguro di farlo fra un anno, un anno e mezzo, quando il Presidente Cacolici vorrà ripetere un aggiornamento del suo lavoro, perché sicuramente non si conclude oggi, perché ho sempre detto in quest'Aula che la dialettica tra partiti deve essere sempre importante, non deve essere preconcetta. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare. Ho sempre detto che sul contrasto alla mafia, chi avrà qualche attimo di tempo troverà i miei interventi che facevo nel 1996 da opposizione, poi nel 2001 da capogruppo di maggioranza, nel 2006 opposizione dal Presidente del Senato, ho sempre detto che nel contrasto alla criminalità organizzata la politica non può e non deve dividersi, perché si fa un favore alla mafia. Ed è così. Ed ecco perché anche il clima di oggi che registro è un clima molto importante, molto responsabile e significativo è d'accolgo e ho ascoltato con grande interesse la relazione di Antonello Cacolici, il Presidente Cacolici, che ringrazio anche politicamente e istituzionalmente, perché lui ha fatto un'analisi e ha fatto anche delle proposte, quelle che il Governo, chiaramente adesso risponderò, recipirà al massimo, perché questa è la politica che mi piace. Confrontarsi su un tema delicato che annorba e ammorba la nostra realtà territoriale, sulla quale noi siciliani dobbiamo essere pronti, in quest'Aula sicuramente, come azione di Governo, a non fare sconti a nessuno. Mai abbassare la guardia. L'abbiamo fatto anche quando l'On. Cacolici cita il record dei sequestri che si è configurato in Sicilia. Onorevole Cacolici, colleghi, quel tipo di sequestro, quello che ha consentito alla Sicilia di essere, purtroppo, battere il record dei sequesti, ma comunque un successo della magistratura, è perché abbiamo introdotto, quando eravamo in Parlamento, quella norma che lei conoscerà, quella sul sequestro per equivalente. Succedeva questo in passato, che il mafioso, avendo nell'aria la percezione che si potessero sequestrare dei beni di indubbia provenienza, ritrasferiva a terzi quelli di indubbia provenienza. Terzi buona fede. Gli avvocati che mi seguono compreranno cosa voglio dire. Allora, quando arriva la magistratura per sequestrare, non poteva perché era stato venduto a terzo, un terzo di buona fede, sulla base della tutela e l'affidamento non poteva essere ritolto, e rimanevano soltanto i beni ereditari, quelli non aggredibili perché di lecita provenienza. E spesso la magistratura rimaneva con un pugno di mano, purtroppo, pur volendolo. Bene, noi come Parlamento recepimmo questo grido e questo appello da parte delle procure, anche della Procura di Palermo, che segnalava questo fenomeno. E nel 2001, se non ricordo male, ce ne facemmo carico, io ero Presidente del Senato, quindi no, nel 2008-2009 ce ne facemmo carico, introducendo il sequestro pericolente. Cioè, il momento in cui il bene oggetto di sequestro è stato preventivamente trasferito a terzi buona fede, si sequestrano i beni legittimamente percepiti dal prevenuto, cioè quelli ereditari. Questo ha comportato un notevole aumento dei sequestri patrimoniali confronti alla mafia. Perché è giusto quello che dice Cacolici, la mafia si combatte aggredendo il patrimonio, perché l'arresto, la reclusione fa parte quasi del pedigree del mafioso, fa parte della sua storia. Essere stato in carcere per un mafioso, non dico un titolo, ma quasi, il patrimonio no, il patrimonio li fa impazzire. E noi abbiamo fatto questo come Parlamento nazionale e gli effetti sono adesso quali? Quelli di una molteplicità di beni confiscati. Dove Cacolici pone un tema giusto, corretto. Questi beni confiscati, poi, che fine fanno? Perché è facile riempirci noi stessi, ci metto io per primo, l'ho detto tante volte, riempirci la bocca di dire che dobbiamo restituire quello che è stato sottratto alla società illegittimamente e quindi col sequestro di questi beni dobbiamo restituirli poi alla società che ne ha subito il danno. Ma dobbiamo essere in grado di soffarlo attraverso un'amministrazione giudiziaria che abbia la possibilità finanziaria, economica e strutturale di amministrare quei beni e poi trasferirli. Ed ecco che allora l'intervento sul finanziario attraverso IRFIS mi confronterò con IRFIS per fare in modo di verificare una misura che possa abbattere il tasso di interesse debitore dell'amministratore giudiziario che già di per sé vede ridotta l'ambito d'azione perché l'amministratore giudiziario non viene confiscato, non è il normale imprenditore che si presenta al mercato, al mercato, alla borsa aperta per realizzare vendere e realizzare il profitto. È un'azione pseudo liquidatoria. E allora se a ciò dobbiamo aggiungere che spesso l'amministratore giudiziario viene iscritto, senza volerlo, nella blacklist delle banche perché la banca dice il rischio è elevatissimo per cui ti chiedo un interesse tale per cui non lo accetti, allora è giusto che noi come Governo regionale si possa fare una riflessione per verificare quello che credeva il Presidente Cacolici attraverso il nostro istituto finanziario che sta dando grande risposta al territorio. Ecco, queste sono le proposte importanti che noi ascoltiamo e siamo pronti a verificare per poi rincontrarci eventualmente fra un anno quando il Presidente Cacolici riterrà di doverci rinformare su un'analisi che io condivido in pieno. Pensare che con l'arresto di Messina Danaro si fosse combattuta finita la mafia, è chiaro che è un errore che non ci possiamo consentire, che la mafia è cambiata. La mafia si inserisce, si inserisce nella pubblica amministrazione, si inserisce nei movimenti di terra, si inserisce nel controllo del territorio e lo fa sia per guadagnare ma sia per affermare il proprio potere. È finita la vecchia mafia della lavorazione della cocaina, delle sostanze degli anni 70, il boom edilizio degli anni 70 si deve a che cosa? Negli anni 70 gli edifici crescevano, nascevano come funghi, 70-80, quello è il periodo. Perché? Perché lì la mafia era molto più ricca perché in Sicilia si raffinava la cocaina per poi essere esportata, quindi l'utile era ancora maggiore. Poi è subentrata un altro tipo di mafia, non più la raffinazione della cocaina perché la magistratura ha inferto grandi colpi e si è passata al controllo del pizzo, la guardiania, il taglieggiamento sempre comunque con utili, non solo delinquenziali, ma che venivano reinvestiti per attività delittuose. Ecco, allora quando verifichiamo che la mafia c'è non dobbiamo né piangerci addosso né preoccuparci, dobbiamo reagire. Lo dobbiamo fare però con compostezza, senza grandi proclami. Io non sono abituato a fare proclami antimafia ed altro, anche se, come vi dico adesso, fa parte della mia storia poi, quindi non è un mistero di essere stato il promotore, colui il quale ha firmato l'emendamento sulla stabilizzazione del carcere duro nel 2001. Ci ho messo la faccia, abbiamo messo la faccia io e chi l'ha votato. Non è che soltanto io sono dettato, il carcere duro era provvisorio, era una misura straordinaria che veniva replicata di due anni in due anni come ai tribunali straordinari. È stato stabilizzato, quindi i mafiosi sono messi il cuore in pace e il carcere duro era una misura stabile. Così quella rese queste. E allora è evidente che abbiamo dinanzi un fenomeno criminale che dobbiamo contrastare con fermezza, con compostezza, ma determinazione. Si dice, Presidente Cacolici, manca la presenza raffigurativa dello Stato quando mancano i vigili urbani nei Paesi. È vero. E questo è un segnale. Un segnale che noi raccogliamo, ce ne faremo carico, parleremo con i sindaci, verificheremo quali vacanze di organico hanno per cercare di intervenire, per cercare di dare una mano. Siamo qui per questo, tutti dalla stessa parte. Altro aspetto che pone il Presidente Cacolici, moltissimi comuni non hanno fondi, non hanno possibilità di installare impianti di video sorveglianza. E questo è un tema che pone e a me fa piacere ascoltarlo, fa piacere nel senso che mi dispiace sotto il profilo sostanziale, mi fa piacere saperlo sotto il profilo politico perché è una proposta, un tema che viene posto e che noi dobbiamo affrontare. Verificheremo, lo dicevo al Presidente Cacolici, se è configurabile l'ipotesi, perché sono spese per investimenti, se è configurabile l'ipotesi di inserire una serie per bando, una quota, una somma per realizzazione di questi impianti nei comuni che facciano un minimo di progetto per questi impianti di videosorveglianza. Perché anche questi sono investimenti. L'FSC 2127, voi sapete, tocca il tema degli investimenti. Questo è un investimento. È un investimento per la legalità, è un investimento per il controllo del territorio. E quindi lavoreremo in questi giorni per verificare questa possibilità. Perché io credo che si possa arrivare a questo. naturalmente attraverso la procedura, dicevo all'assessore del bando, si stanziano delle somme, si apre un bando, vediamo quei comuni che sono pronti a farlo e noi faremo la nostra parte. La mafia deve sentire il nostro fiato sul collo, sì. Lo diceva Cacolici e ne sono convinto anch'io. Dobbiamo dare anche dei segnali. Segnali che abbiamo dato anche sotto il profilo sociale. Si parlava ad alcuni interventi di ragazzi che conoscono soltanto la strada e che quindi vivono in un ambiente subsociale, un ambiente dove non c'è la possibilità di crescere in salute, di poter fare sport. E questo Governo per il secondo anno in manovra ha raddoppiato l'importo per il bonus palestre. Perché vedete, il bonus palestre ha un fine non soltanto educativo sotto il profilo fisico e sanitario, ma anche sotto il profilo sociale. Togliere dalla strada questi ragazzi, consentendo alle famiglie che non se lo possono consentire di mandare questi ragazzi in palestra a crescere, sottrarli dalla strada, ma a crescere ed educarsi. Altro pensiero che mi viene. La mafia si infiltra. C'è una nuova mafia, una mafia dei colletti bianchi, è un'espressione che non mi appartiene ed è storica, che entra anche in certi grossi business delle nostre regioni. Vi sono dei settori in grande sviluppo. Ci sono settori della regione, io non voglio dire quali, ma sappiamo bene che noi siamo attrattivi per alcuni investimenti. Ebbene, scopro che spesso i rappresentanti di queste strutture, serie o non serie, non entro nel merito per ottenere autorizzazioni ed altro alla luce del sole, si presentano anziché con i loro legali rappresentanti, attraverso intermediari, i classici lobbisti. E con ciò non voglio offendere il lobbista perché in assenza di una legge che disciplina l'attività del lobbista non possiamo definirlo in maniera anomala. Però queste figure lavorano per ottenere l'autorizzazione. E fin qui. Ma io accenderò un faro? Il momento in cui dovessimo verificare che poi queste autorizzazioni ottenute nel giro di sei mesi dovessero essere poi vulturate. Allora questo non potremmo consentirlo. E quindi io anticipo che studieremo delle misure che pur nella libertà dell'azione d'impresa, pur nella libertà e trasparenza della pubblica amministrazione, del rilascio delle autorizzazioni, perché sono a volte anche per noi un atto dovuto naturalmente, perché siamo in un regime di economia libera di mercato, staremo molto attenti e ci accingiamo a sottoscrivere e indirizzare agli assessori competenti un atto di indirizzo sulla disciplina del rapporto tra l'assessorato e la stessa presenza dei confronti di rappresentanti di aziende che chiedono autorizzazioni, per evitare che ci siano intermediari. Il famoso lobbista che lavora svolgendo regolari attività, però io da quando sono Presidente della Regione ho fatto pochissimi incontri con grosse imprese, ma proprio quelle ufficiali, tipo Devo fare Eterna tra poco, Ho fatto Enel e l'altro. Ma ci sono state tante imprese di grande livello che hanno chiesto di incontrarmi perché hanno in corso delle attività o richieste o attività in corso, mi sono sempre astenuto per evitare, ma non per altro, perché stanno lavorando, sì vogliono venirsi a presentare e dire quello che fanno, ma non c'è bisogno, lo stanno facendo bene e lo continuano a fare bene, ma lungi da me l'idea di incontrare addirittura chi non rappresenta l'impresa, ma rappresenta gli interessi dell'impresa. Ecco, su questo noi dobbiamo essere attenti e saremo molto attenti, Presidente Cacolici. Poco fa Don Evole Pellegrino ha toccato un tasto delicato, quello dei termovolizzatori. Ce la stiamo mettendo tutta, io ringrazio il Governo nazionale, ringrazio l'assessorato Rifiuti, ringrazio tutti coloro i quali ci daranno una mano in questa grande operazione di risoluzione del problema atavico storico dei rifiuti in Sicilia. Sappiamo bene che ci muoviamo su un terreno dove vi sono stati in passato interessi, magari economicamente quasi monopolistici del settore. Però noi andremo avanti serenamente, forti di norme speciali che ci ha dato il Governo nazionale, forti spero del vostro consenso, forti del consenso dei cittadini e dei sindaci che vedranno abbattere le tariffe sose che sono costrette a pagare per lo smaltimento dei rifiuti. Lo faremo con la schiena alta, così come, ripeto ancora una volta, saremo sempre sensibili a quelle che sono le istanze di questo Parlamento che rispetto sui temi sociali. L'ultima finanziaria ha previsto una norma importantissima che io ho condiviso e sostenuto quella l'anticrack voluta da Ismael e Lavardera, voluto anche da altri partiti. Erano state fatte delle obiezioni da parte del Governo per una eventuale ipotetica impugnativa. Voi sapete come funziona, si fanno le contestazioni e poi ci si difende e si trova un dialogo. Devo dare atto, devo dire al Governo nazionale che in questa occasione sarà perché c'è un rapporto di collaborazione più responsabile, nel senso anche perché i nostri conti migliorano. Nel 2023, voi sapete che abbiamo avuto un aumento delle lenzate fiscali di un miliardo e tre, tutte andate a ridurre il disavanzo, quindi non è che li abbiamo utilizzati, abbiamo fatto i compiti a casa. Bene, su questa norma ci siamo confrontati. Mi sono sentito anche, ho informato Ismael e Lavardera, che mi ha scritto difendiamo questa cosa, io ho detto la difenderemo con i denti, l'abbiamo difesa e non verrà impugnata. Così come ci siamo difesi, e vi annuncio che probabilmente siamo alla vigilia di aver risolto anche un altro problema estremamente delicato, perché c'era stata fatta una contestazione nella nostra finanziaria, quella che toccava il risarcimento delle vittime dei femminicini. Una norma di grandissimo impatto sociale. Ci veniva detto che trattavasi di argomento che necessariamente meritava di una legge quadro di carattere nazionale. Ci siamo confrontati con estremo garbo, con convinzione, e credo che siamo alla vigilia di un'affermazione di tutto riposo che ci lasci ben pensare che questa norma, con una piccolissima modifica che faremo poi in aula, non venga impugnata. Questo perché ci stanno a cuore i temi che, al di là dell'aspetto finanziario, mi sono permesso di spiegare al Governo nazionale, hanno anche un impatto sociale ed economico. Perché la delinquenza si combatte anche così, prevedendo dei risarcimento, ma non che questi servano a risarcire l'aspetto finanziario, ma che diano la sensazione al popolo siciliano che lo Stato c'è, che la Regione c'è, che noi siamo Regione, ma facciamo parte di uno Stato. Lo Stato esiste. Lo Stato esiste nelle sue diramazioni, le regioni, i comuni, le province. Questo è fare sistema, questo è lavorare assieme quando si tratta di difendere dei valori che non possiamo difendere e non tutelare, quelli della tutela della dignità della persona. Ecco, io con questo mi auguro, da qui a quando deciderà il Presidente Cacolici, di relazionarci su una seconda attività che svolgerà, sulla seconda fase dell'attività della Commissione Antimafia. Per gli altri temi che ha posto, assicuro al Presidente e assicuro a tutti coloro i quali sono intervenuti, che ci faremo carico di esaminare con attenzione e responsabilità le proposte concrete e pragmatiche che io ho ascoltato in relazione del Presidente Cacolici, perché hanno un senso concreto, sono credibili, hanno un significato e quindi ringrazio lui, ma ringrazio tutti i componenti della Commissione Antimafia di maggioranza e di opposizione per quello che hanno fatto e per quello che continueranno a fare in quella Commissione ed anche in quell'Aula. Vi ringrazio.